Se ti piace la frutta E' più che altro molto buio questo teatro, eh Ha la faccia Non è che la torcia faccia miracoli Però ecco, dopo tutto quello che abbiamo passato io veramente mi auguro che sia solo una cosa di esplorazione Mo' che l'ho detto ragazzi Chissà cosa trovo Una cosa è sicura, c'è veramente tanta roba da osservare qua Ma tanta, eh Il che è anche un bene Chissà quanti personaggi muoiono qui Eh, mi sa un bel po' sai Strano Serve chiave Cioè non è che ti dicono serve la chiave No, proprio serve chiave Gabu, serve chiave Cioè proprio così te lo dicono Ok, penso che comunque la chiave dovunque stia Stia su Oddio È incinta È incinta È incinta, cazzo Come si fa a mantenere un segreto così? Eh, si mantiene anche di peggio, non ti preoccupa Ok, la mia preoccupazione adesso non è trovare qualcosa, trovare qualcuno, non trovare qualcosa, non trovare qualcuno La mia preoccupazione adesso è fare qualcosa, fare qualche passo più lungo della gamba, ecco mettiamola così E tipo non poter tornare indietro perché ci ho sofferto tanto di questa cosa ragazzi durante questa campagna qui Ok, la nota è vecchia, ma è meglio stare attenti Ecco l'ha detto, incidenti a te Ecco l'ha detto Bene, ho constatato il fatto Che a questo punto Devo per forza andare qui Non ho scelta Questo potrebbe essere un cavo della corrente utile Per magari Mettere la corrente qua dentro, no? Straccio Ok, si può ripristinare la corrente, che bello Ovviamente non c'è neanche un tavolo da lavoro Alcol Recipiente Zia senza corrente però c'è anche inutile che ci provi Va riattivata la corrente Brava Come famo? Ok, allora Intanto io direi di andare sul tetto a riattivare la corrente Poi pensiamo a tutto il resto Dov'è la scala qui? Molto belle queste tasche comunque Ce l'hai tu la chiave? Ti sei fritto? No Forse non eri questo grande elettricista Oh, perfetto Ok Eccole No, scherzo, sono i pezzi Eh, il rumore era quello però Vediamo che dicono Eccole le chiavi Che cos'è? Oh oh Ok Ok, quel trapiccolo non funziona Va bene Torniamo nella main hall A meno c'è due luci A farci da guida adesso Ok Sembra ci fosse No, per fortuna Sapete, è imprevedibile questo gioco A parte che è anche vero che se c'era quello là morto Bello fritto lì Sarebbe abbastanza pagliaccioso che ci fosse Qualcuno di vivo Qualcuno di vivo Se non qualche infetto Però diciamo che se tu non presti abbastanza attenzione a un click Eh, poi sono cazzi Eh, ci c'è ma anche se Joe fosse vivo mi sa che è il film qui Lo guardi molto difficilmente Lettera Anzi Locandina 14 settembre 2013 Infatti benissimo per i bauli eh Minchia Gli amplificatori No, no Tanta roba Qual è la sorpresa mo? Da brividi Non ci credo Niente Passiamo al gioco a rincorrere le chitarre Tu sei lì concentratissimo che ti stai cagando addosso Dal nulla Trova una chitarra Anche questa qua è accordata? Poteva essere messa peggio Certo Una corda sola Copyright strike Che mi sta arrivando Se non mi sono Se non mi sono Se non mi sono Fine.